bella a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai birillo un liquido fatto da noi preso la roma miscelato 90 di base 70 30 10 da roma sempre le nostre miscelazioni sono sempre con zero nicotina zero nicotina si chiama centaurus sarebbe un pop con caramellato con marshmallow e vaniglia preso da svapo caffè ricordiamo ragazzi adattaci a trovarlo a maria di cara la ricciara e la spezia ora andiamo a fare la prova di sua per tirare qualche conclusione a questa questo liquidozzo della lord hero 2.0 io andrò a provare con il ghani v2 e druga io l'amere l'apocalypse abbiamo fatto girare sempre con miscelatore ormai ci stiamo trovando bene si si sta arrivare un bel po buono tanta roba per essere fatto da poco è tanta roba poco così che anche il dolce della vaniglia e un poco di asperito del maschimero dolce del maschimero che vuol dire quasi amaro si che tra il pop con caramellato la vaniglia si abbina bene un bel abbinamento centaurus rimane anche bello dolce in bocca che rimane un buon gusto in buon gusto e lo dei cosmi un pop corn leggero non è però un bel liquido 7 e mezza sono merito lo passimo merita allora dalla tavola dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale andate a provare a fare da voi qualche liquidozzo così che poi troverete il setup giusto e via pagherà quando fate il liquido di andate a svappare il liquido fatto da voi tanta roba allora ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e su facebook veniteci a seguire vi aspettiamo un bacio ciao